attento a cittadino ma qui ma è pieno di scimmioni ma da dove? oddio stava a trollare no pezzo di me no pezzo di me aiuto oh ma che cazzo è il canile vaffanculo che schifo oh ma è pieno di ste merde no no scusa scusa non volevo toccare le tue merde non le volevo toccare non le volevo toccare qui sento dei rumori non carini oh 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 scusami scusa? che cazzo è sta trappola salve rasista chiedo scudo chiedo scudo chiedo scudo scusa signor rasista no 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 brutto rasista brutto rasista abbassi le armi rasista abbassi le armi signor rasista lei in arresto questo addirittura è un piccolo arco questo ca... ma sono la baby gang non toccare i miei cuccioli porco dio mannaggia c***o non li tocco uè ma che bella luna ma che è ma che è sto schifo ma oddio sono quelli che mi chiedono della weekend league paxone la vl dov'è la vl I will kill you ok vabbè mi dimentico che qui se metto il microfone è tipo mo partono parole strane oiii non so che ho detto ciao eh ma è uscita la musica stecca mi sono caccato in mano vi dico una cosa importante power magari vabbè può sembra ma non è un cane quindi è difficile che io lo riesca a tenere al guinzaglio e tu dici portalo la portalo la solitamente alle persone sentite questa cosa non so se l'avete mai senti si dà la capacità la possibilità di scegliere è strano eh è un bug nuovo che hanno inventato è un bug è un aggiornamento mi do muro da questo come si muro da o ma sto a giocare veramente a una chiavica o ma zio se sei fotte sali ma sto scendendo fra frate non lo so dove sta gianco ma davvero che cazzo è verissimo e poi ragazzi a me fa morire perché un barese che faccia la S così dai cosa stai facendo spiegami che cosa stai facendo che cosa fai uccellina delle uccelline amore c'è qua sono sconvolta veramente si va bene mi viene da piangere eh piangere ok ragazzi possiamo partire possiamo partire in vero zio ma sto scherzando amore ho fatto e few moments later ma no voglio fare so la massa è arrivato è arrivato aia ma per te devi tirare gli schiaffi a me mi maltrati famo un caffè famo un caffè devo andare a fare il letto che non è ancora fatto non ti devi permettere di trattarmi così hai capito sono subata da power ecco quindi mi sfuggiva power adesso fa tutto fa tutto mia moglie cioè io lo tengo al mattino ogni tanto ma infatti io non c'ho la pareccia tipo io non so badare a me stesso capito e te voglio dire al momento è un po' tragica ma io adesso stai sto arrivando la sera ultimamente che sono veramente tipo con due neuroni già dalle nove perché sono proprio stanco zi e al pomeriggio invece so sciarlo tipo oggi ho fatto uno live urlavo spaccavo bottiglio ho picchiato mia moglie in live cioè ho fatto delle belle cose ho fatto delle cose brutte oh ma ha tirato uno schiaffo gli ho fatto la battista bomb sul divano la reazione esatta ma che stai scherzando io in pratica quando afferro le cose così non ci arriva il migliolo avete capito il mio discorso ok basta non c'è non c'è come direi quando aprirai la porta la porta troverai tuo pilo che si sta segando non è comunque una bella immagine già non so come sarà da grande lui è un'ottica voce che c'è il fazione conquista la pola come padre dio vuole quanto di***o prende nel culo si dopo i disney vaffanculo si si fazioni 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 no 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 allora ragazzi questa è una stream family friendly una stream family friendly allora ci guardiamo una puntata di hello kitty no per tornare un po' in te ma si si hello kitty non è successo tranquilli ci dissociamo dal video che abbiamo appena visto ci associamo a hello kitty che piange vedi quelle munizioni pesanti che ho lasciato eh eh ah 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 dio sandalo dio gli ha fatto fare la cacchetta sotto ma questo è dove stavo prima no no il mio cuore non fa più rire ragazzi ho una certa età veramente non ne vado che so sicuramente milioni milioni dimmi milioni le stelle di ne oh cazzo non si può dire quella marca vuol dire qualità è un merdaio due piccoli due piccoli serpenti un'aquila reale un gatto un topo un elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due leocorni paparappara perché mintano le canzoncine in testa mintano delle canzoncine in testa a caso cioè perché mocio sta cosa in testa non ha senso la canto sempre a mio figlio è bellissima probabilmente l'avrei sentita a cazzo di cane e poi ti rimane tipo tre giorni la ricanti capito poi tipo oh mia bella madunina queste cose non ha senso che lingua parla questo raga che lingua parla questo raga ci ha rotto il cazzo è stato un piacere dai zio vai a giocare col pongo mi sono rotto il cazzo di ancora oh ah shit bro shit bro shit bro shit bro shut the fuck down bro mamma mia sono il giocatore più forte del mondo quanto l'hai pagato? 2 milioni come arriverà? 0-0 in realtà avevi già tutto in club? avevi tutto ah mi dice allora ma dumbo grazie millezza Bette freni non lo so dove se no non lo so perché non è casino non è casino che c'è Brio? che c'è standard Brio? che c'è 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 Brio? Barmellena ah le romerland le le romerland le romerland ver ver malen c'è per giocare la carova barmellana a Erik l'all There è vissi che c'è il è la Grazie.